Trasformare in struttura ricettiva il palazzo dell'urbanistica prima di venderlo, questa la proposta avanzata da Alberto Santorelli. Il consigliere comunale di Progetto Fanno sostiene infatti che ai problemi finanziari vada associato a un progetto di sviluppo della città e del turismo. Invita infatti adottare il centro storico di un hotel che essendo davanti al teatro potrebbe essere unico nel suo genere. Sarebbe svilente svenderlo per farci uffici o appartamenti, in questo caso ci sono gli uffici ma al piano terra c'è già l'ufficio turistico che è stato proprio da poco inaugurato e quindi poter pensare di svilupparlo in un contesto turistico, struttura ricettiva potrebbe essere una risposta all'economia locale, quindi non solo alle casse comunali ma anche all'economia locale in termini di lavoro, in termini di immagine e in termini di turismo. L'amministrazione può farlo perché trattasi di variante ad alto interesse pubblico e quindi i tempi si possono ridurre in maniera molto importante e sicuramente tirerebbe anche investimenti non solo quelli di chi fosse interessato nella città o nella nostra zona, nel nostro territorio ma anche investimenti di chi può intravedere un'opportunità, quella di realizzare una struttura ricettiva in pieno centro a Fano in un contesto storico, architettonico e sicuramente di opportunità.